Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Ho partecipato in data 24 febbraio a Taranto ad una proficua riunione del comitato di indirizzo della ZES interregionale Ionica. A questo riguardo abbiamo fatto il punto della situazione sul bando per l'assegnazione ai comuni che ne hanno fatto richiesta di ulteriori 90 ettari circa di territorio da ricomprendere nel perimetro della ZES. Abbiamo discusso inoltre delle agevolazioni fiscali che saranno offerte alle imprese che si insedieranno nell'area ZES partendo dall'abolizione dell'IRAP per cinque anni che il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi e che presto sarà attuata con un provvedimento analogo anche dalla regione Basilicata. Stiamo definendo poi un pacchetto di misure di semplificazione amministrativa e di agevolazioni in favore del sistema produttivo riguardanti le tasse e i tributi locali che proporremo ai comuni che insistono nel perimetro della ZES. E prosegue Borracino molto proficua è stata anche la discussione che ritengo la più importante abbiamo avviato sulla individuazione delle aree da proporre al governo centrale per l'istituzione della zona franca doganale che come si ricorderà come governo regionale abbiamo proposto ufficialmente il 13 novembre scorso al premier Giuseppe Conte con una formale comunicazione inviata dal sottoscritto. Questa proposta è stata ricepita a livello di esecutivo centrale e stiamo alacremente lavorando per la realizzazione di questa misura in un rapporto di stretta e leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali al fine di offrire a chiunque fosse interessato un ulteriore strumento per favorire con l'esenzione di numerose tasse a partire dall'IVA l'attrattività degli investimenti sul territorio della provincia ionica e la competitività del nostro sistema produttivo in modo da dare ulteriore impulso allo sviluppo economico dell'area ionica con positive ricadute anche in termini occupazionali. E conclude così l'assessore regionale crediamo di poter definire l'area interessata dalla zona franca doganale entro qualche settimana e come comitato di indirizzo ci siamo riaggiornati a breve proprio per fare su questo il punto della situazione.